Musica Ciao ragazze, ciao ragazzi, entri qua, nuovo video Siamo andati da H&M H&M Vuoi parlare in inglese? Ci manca una cosa, i ragazzi stanno aspettando Se no lo fai non partiamo Yeah Ok Ho fatto tante cose, da come avete visto nei videovlog che abbiamo messo tipo a voi comunque l'avete già visto in videovlog adesso ho subito voluto provare proprio esaltamente abbiamo fatto un video con i vestiti indossati che vi piace tanto Vi piace questo tipo di video? Molto veloce, andiamo molto veloce facciamo vedere tutte le cose indossate mettete like Che cosa facciamo? No perchè si è un po' sexy Diciamo che è uno shopping un po' sexy autunnale sexy infatti il primo capo è molto sexy questo vestito che abbiamo preso io grigio e lei nero ora quello nero è più bello e quindi ovviamente non l'ho comprato lei e a me è toccato quello grigio perchè se no faceva la sua copione e mi ha detto che obbligatoriamente dovevo vedere il comunque è carino lo stesso è molto bello perché ha abitato e poi ha questo motivo delle spalle da fuori è molto sexy ma la mia ha comunque più grande ovviamente che ho comprato più cose perchè io compro poche cose ma buono diciamo che è come shopping sexy questa non è molto sexy però è molto molto carina e questa l'ha vista lessi tutte le cose scende guarda compratela ho capito gli occhi la bocca ha tutti i segni troppo carina e questa l'ho pagata solo 10 euro ragazzi quindi evviva ho preso una xs perchè vestono molto molto larghe ad hm prendo sempre una vestita e xs perchè veste larghissimo infatti questo vestito è 34 veste largo poi ho preso anche questa qua me l'ha fatta prendere Nancy ah guarda come è carina è proprio una magnetta questa sa tutti i sushi perchè lo avete è troppo bella tutti i pezzettini di sushi c'ha la preva il nigiri il lo somaki ce l'ha tutti troppo carina va corta in vita e c'ha tutti i sushi quindi Nancy ha detto anche questa qua 10 euro xs ha detto la tua maglia compra te la scema che è successo che è successo niente questo cosa schifoso è capitato nella mia busta ma come io penso a un pantaloncino nero brutto brutto la fine del mondo un grido come non lo so il pantaloncino la sua busta il pantaloncino come potete vedere ma siamo in autunno lo vuoi capire o no? a parte il fatto che non importa la stagione perchè io l'ho visto mi piaceva dato che è vero non trovo mai pantaloncini di jeans neri ma non neri questo è di jeans nero non ne trovo mai appena l'ho visto ho detto ok me lo compro e poi mi piace perchè è alto in vita mi piaceva moltissimo quelli alto in vita però non è strettissimo che mi soffoca quindi è bello e poi è tagliato tutto così impreciso guarda com'è bello Nancy guarda ma che te lo finisci di stracciare l'ho pagato però la bellezza di 40 euro 24 euro ma scusa 24 euro 25 euro ho preso una 36 euro per che quindi sarebbe una 40 perché vi ho detto che calzano grandi le cose comunque è bellissimo questo pantaloncino in jeans ragazzi cosa c'ha l'interno? si può indossare anche voi gli stivaletti e le calze nere vedate? sii ho preso questo maglioncino guardate quanto è questo è un maioncino di cotone così ci si veste da uno color senape guardate quanto è bello e poi tutti questi ricamini qui in vita sulle spalle è un colore che ti illumina l'incarnato e ti fa splendere come una stella come è questo l'ho preso S perchè non c'era XS no però stava 14 euro e 99 in questo caso mi va bene è bello un po' più morbido che è morbido poi ho preso questa qua che già si è spoccata provandola io l'ho sporcata un po' con il rossetto però vabbè comunque le devo lavare i'm allergic to basic wow questa è proprio mia questa maglia sono allergico alla basica che vuol dire? no la basica ah sono allergica alla semplicità sono allergica a Nancy comunque bene questa non è proprio la maglia è una maglia che fa direte e arriva in vita e poi è semplice però come maglia quindi non so non è non arriva sopra l'ombelicco è corta ma bella coprente poi c'è questa scritta è tutta a costine molto morbida è molto molto carina perchè c'ha la manica guarda non è la mezza manica ma è due quarti e mezzo e sono proprio di più allora con questo bra sto dicendo di me 12 euro e 99 ho preso una XS quindi anche questa qua per farla andare bella io invece ho preso questa maglia questo seria burgers più fries cioè vedete burger e patatine fitte quindi è proprio la mia costa soltanto 9 euro e 99 l'ho presa XS mi piace perchè è morbida e corta però non troppo però un po' larga così ma sono rosa c'era ma la voglio io mi piace troppo oh tante mai oh tante mai comunque sai i mezzi secondo me ci dovevano disegnare anche un bel piatto di patatine sopra la lavagna e infatti ci sono rimasta dovevano mettere una ma e ce le vuoi sopra in realtà no io me le mangio ovviamente è scenissima ma è troppo scema però a me a volte piace mettere qualcosa di normale nella mia vita a volte è nera ed è corta ma non troppo quindi va bene anche tipo come sotto giacca così è nera semplicissima l'unica cosa è che ha arricciata lungo le maniche è già tutto e anche di questa qua questa ho preso una S e comunque mi va abbastanza bene 10 euro poi ho preso un paio di jeans ovviamente blu scuro ovviamente bellissimo sono proprio belli ragazzi perché i jeans di H&M ma anche di altre marche tendono sempre ad allargarsi e non hanno più forma quindi ho voluto prendermi uno nuovo guardate quanto è carino bellissimo bel colore di blu io ho delle mutande svelato perché l'ho tolto prima 19,90 hai preso una taglia? una 36 pure lei che mi interessa si si basta il tuo se la devono comprare mi piace un sacco qui 36 europea ma 40 italiano si però io la volevo prendere pure io ma fregato alla fine non me l'ha fatta comprare ma che cosa che mi prendo io? mi piace mi piace comunque mi piace infine ragazzi l'ultima cosa che ho comprato è questa maglietta anche troppo troppo carina ha il bordino qua sul collo è una bella scollatura che si intravede tutto sempre qualcosa sexy sensuale per questo si che è sexy questo è un sexy una bella scollatura velata con questo bordino sul collo è molto molto carina anche questa a 10 euro ma è una bella maglietta anche per la sera ho preso anche di questa una XS quindi tutta bella attilata questa ad esempio con un pantalone nero per uscirci è bella è semplice è proprio fa tutto da rumore minigonna no dai dal resto mi sento in soggezione ma allora poi ho preso questa maglietta un po' bella ragazze e bordeaux qua sembra più chiaro comunque bordeaux scuro e poi c'è il dettaglio di tutti i laccetti qui sul decolleté sexy però non è che si vede molto il decolleté sono molto è molto coprente non è tanto sexy siii quanto l'hai pagata? questa l'ho pagata 14,99 forse è questo padrone ah ah infirchia comunque è l'XS anche questa è bella si mi piace un sacco anche questa la volevo pure io ma lei ma guarda mi toglie le cose da mano e io gliel'ho presa io ho preso e ho detto guarda come è nera questo è il colore che piace a ti perché le ho detto bordeaux e si e poi ho detto però la posso comprare due palle però la volevi pure tu no non te la vuoi comprare no ma poi sei andata a vedere e non c'è l'XS mi dispiace c'era solo lì sta benissimo mi piace un sacco ragazzi e poi te la bottoni poi al momento è un po' opportune di fare la sex con un gesto la ti lanci ma poi devi che bocci guarda prima altra magliettina bianca questa qua è carina perché è tipo come il vestitino secondo me questa non era la tua te l'hanno messa nella busta e non mi ricordo io l'ho pagata faccio uno scontino io l'ho pagata io l'ho scontino quanto ti ho pagata? l'ho pagata a 12,99 e ho preso una XS ed è molto bella perché stavo dicendo è uguale al vestitino cioè portato fatto delle spalle scoperte però poi non è scollata perché vuoi troppo l'ho affonata con le maniche ed è bianca sempre un po' a costine è molto molto carina beh ovviamente mettete il registro dello stesso e lo avete vestito noi perché voi siamo stati un po' improvvisati io ho fatto un dito ci devono guardare il dito il mio esatti no il tuo l'ho parlato l'ho parlato comunque l'ultima cosa te la stavo diventicando Renzi guarda oh le mie collettine no oh le mie collettine no aspetta no aspetta le ho comprate io perché sarebbero due perché sono marroni come i miei capelli ma adesso te le posso regalare qualcuno no tu hai i capelli miei io ce le ho più chiare quindi hanno migliore ho reposto pure le collettine no sono 2,49 le ho spesi vabbè ho pagati io ma no va bene e finiamo qui ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate tanti pollici in su per la cattiveria di Deci per la sorella cattivì così andremo subito a fare di nuovo shopping che vi faremo mettere la stessa esatto se vi piacciono questi video noi ci divertiamo tanto e ci piace darvi dei consigli spesso li date anche voi a noi lasciateci soprattutto a lei che non ha gusto eh sì lasciateci nei commenti fateci sapere se vi sono piaciute queste cose che abbiamo comprato se ci stanno bene se ci stanno male consigliateci altri negozi in caldari più sbagliato guardate mua e iscrivetevi a questo canale è gratis veramente ti giuro non si fa fare niente ciao ragazze non cadere ce la puoi fare e non cadere non temer io sono un amigna io sono un amigna io sono un amigna oh 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 non c'è ma in Montese io sono un amigna Sì, c'è un piccolo Um, sort of sexy Sexy, sexy Oh, oh Eccle Cosa hai? Non so, c'è casa Cosa hai? Sì, se faccia la cara mezzo Grazie a tutti.